La telepatia è un meccanismo inerente a tutti gli esseri viventi. Tutti siamo capaci di utilizzare i nostri pensieri per stabilire una connessione, perché tutto è fatto di energia. Tu sei energia, le persone che ami sono energia, i pensieri sono energia ed è attraverso questi che tu determini il tipo di energia che attiri, che sia positiva o negativa. Tu puoi inviare flussi di energia verso una persona e far sì che questa ti pensi o inizi a sentire una connessione più profonda con te e molto altro. Per far sì che il messaggio arrivi libero dai rumori interiori e ottenere il massimo dei risultati, devi seguire le seguenti istruzioni. 1. Conosci e ama te stesso te stessa. Una volta che ti accetti e inizi ad amarti, la tua energia cambia ed inizia a sentire e ad emanare felicità. Se il messaggio che invii è positivo, la persona che contatti lo accetterà decisamente meglio. 2. Non sentire necessità o dipendenza. Se il messaggio che invii è di disperazione, sofferenza, che non puoi vivere senza quella persona o altre emozioni eccessivamente negative, in questo caso la vibrazione che questa persona riceverà sarà pesante e di carenza. Pertanto, quando invii un messaggio telepatico, invia sentimenti di amore e libertà. Visualizza quella persona che ti ama, che ti desidera e non il contrario. 3. Sii chiaro e preciso con ciò che vuoi ottenere. Il tuo messaggio deve essere pulito e tutto quello che desideri deve essere perfettamente compreso prima di tutto da te, pertanto si specifico e diretto con le tue intenzioni. Per questo punto, se hai un po' di confusione e magari sei alle prime armi, ti rimando al mio libro avanzato di telepatia e diversi audio di approfondimento nel link qui sotto dove scoprirai anche come utilizzarle con persone che non conosci o magari appena conosciute. 4. Assicurati che le tue intenzioni inizino dal desiderio di fare del bene e vivere bene. Quando il tuo desiderio di comunicare con quella persona nasce dal tuo cuore e non dal tuo egocentrismo, potresti potenziare i risultati. Ascolta questo audio anche due volte al giorno, almeno per 40 giorni. L'orario migliore per questo esercizio è la sera, dopo le 19, ma comunque puoi farlo in qualunque altro momento della giornata. Prima di iniziare ti chiedo di guardare per due minuti l'immagine che ti appare ed essendo una risorsa adatta a tutti, non puoi vedere al centro del video l'immagine e il nome della tua persona amata. Per questo ti invito alle richieste personalizzate dove con totale riservatezza e privacy ti mando una risorsa esclusivamente adatta alla tua situazione specifica. In questo caso invece visualizza mentalmente, dentro la spirale che vedrai a breve, l'immagine della persona alla quale vuoi inviare questo messaggio telepatico. Grazie a tutti. 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 Respira profondamente e libera le tensioni della tua mente. inspira profondamente. Inspira profondamente. libera le tensioni della tua mente. libera. libera. libera le tensioni della tua mente. libera le tensioni della tua mente. può essere un luogo. può essere un luogo dove sei stato meravigliosamente bene. oppure un luogo di pura fantasia. libera. 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 respira profondamente e lentamente in quel luogo insieme a te si trova il tuo o la tua essere amata può essere una persona con la quale non stai più insieme o una persona che vuoi conquistare questa persona ti guarda negli occhi e ti sorride osserva il suo sorriso il suo sguardo nei minimi dettagli e mentre lo fai sente un leggero calore che aumenta nella parte del tuo terzo occhio e del tuo cuore senti questo leggero calore che aumenta aumenta cresce ora qui nel momento presente muovi le tue labbra e osserva come questa persona vuole dirti qualcosa e mentre osservi inizi a sentire la sua voce che dice esattamente ciò che vuoi che dica e mentre lo fai e ripeti esattamente queste parole sussurrando a voce bassa ripeti le sue parole visualizza senti cosa vuoi sentirti dire da questa persona nei minimi dettagli mentre sei tu a ripetere a voce bassa le sue parole visualizza visualizza profondamente senti le sue parole che si esprimono con la tua voce sottile che emana queste vibrazioni all'universo senti e ripeti sussurrando nel qui e ora cosa dice cosa vuoi che dica cosa senti è sì è è sì è Osserva come il tuo o la tua essere amata sorride, pieno di felicità e gioia per averti lì accanto. Entrambi sorridete mentre la connessione diventa sempre più intensa e profonda. Godite queste sensazioni per alcuni istanti. Respira lentamente e profondamente. Respira lentamente e profondamente e ripeti il nome di questa persona mentre continui a guardarla negli occhi. Io, suo nome, ti ho invitato in questa conversazione per dirti che il mio amore per te è puro, sincero e reale. Io ti ho invitato in questa conversazione per dirti che il mio amore per te è puro, sincero e reale. Io ti ho invitato in questa conversazione per dirti che il mio amore per te è puro, sincero e reale. Io ti ho invitato in questa conversazione per dirti che il mio amore per te è puro, sincero e reale. Ti voglio bene. Ora, abbracciatevi con passione, ardore, amore. Senti il suo odore, il suo corpo vicino al tuo. Senti le sue labbra, il suo calore nelle tue mani e respira profondamente la sua essenza. Chissà, il tuo battito cardiaco in questo momento è un po' accelerato. Renditi conto come anche il battito cardiaco di questa persona va in piena sintonia con il tuo. Renditi conto come il suo respiro è perfettamente sincronizzato con il tuo. E ora, mentre sei in questo luogo con questa persona, voglio che ripeti mentalmente le seguenti parole con pura emozione. Come se fosse il tuo cuore a ripeterle. Poiché l'universo ascolta le emozioni, non tanto le parole. Universo, ti chiedo di manifestare il mio desiderio adesso. Tu sei più forte di ogni cosa e ascolti le mie vibrazioni con amore perché sai che ciò che ho trasmesso, sai che ciò che trasmetto è creato dallo stesso amore di cui tu sei fatto. Grazie, universo, perché ascolti e accogli questo mio desiderio e perché, ripeti il nome della persona, è qui con me ora. Grazie, universo, perché si manifestano situazioni ed eventi per vivere la persona anche nella mia realtà fisica. Accolgo le situazioni, segnali ed eventi che mi avvicinano a te, ripeti il suo nome. Ora, sì o sì, grazie. Mi permetto di ascoltare questo audio quante più volte possibili con costanza e determinazione per manifestare ciò che desidero. Grazie. E lentamente prendi coscienza del tuo corpo e quando sentirai il numero 3 aprirai gli occhi. 1. Muovi lentamente le mani, le braccia. 2. Muovi lentamente le gambe, i piedi. 3. Apri gli occhi. Commenta qui sotto la tua esperienza e decreta all'universo le parole sentite dall'altra persona in questa visualizzazione qui sotto nei commenti per aumentare le vibrazioni del tuo messaggio grazie al potere risaputo della scrittura. Un abbraccio. 2. A presto. 1. A presto. 2. A presto. 2. A presti. 3. Ciengela. 1. A presto. 3. Ciengela. Coscienza. 2. Ciengela. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.